Buongiorno a tutti, il mio nome è Isacco Pietrucci e lavoro in Azione Italia con il ruolo di Categori Manager della divisione di popoletture. Oggi siamo qua alla SEA Convention di Milano a presentare tutte le utili tecnologie e soluzioni audio e video per il ricordo professionale. Abbiamo conto questa occasione di quella sottolinea categoria per unire tutti i principali installatori e gli attori del mercato professionale per mostrare alcune installazioni particolari, tra cui l'edge blending, quindi la possibilità di fare schermi panoramici utilizzando la posizione di due produttori messi paralleli, la corner world projection, quindi la possibilità di proiettare sia frontalmente che la retroproiezione su un superficie corn, quindi angolare. Abbiamo anche inserito un'area dove illustriamo un nuovo standard per la misurazione e la velocità sui colori legati al column light appunto e anche delle nuove aree di funding display, quindi delle proiezioni in verticali su pellicoli particolari della retroproiezione, poi tuttora anche indicazioni di nuova generazione come hostess virtuali con strutture più o meno dimensionale. Inoltre ci ritrovo anche un'area legata all'ulmettere reality grazie a questa parte di canale e cogliamo l'occasione di avere qua tutti i processi del settore, illustrare anche le ultime due novità nel settore home, quindi sia in situazione a casa di livello medio basso, che anche la macchina top di gamma per se azioni costi. Un saluto a tutti gli amici di connessione. Grazie a tutti.